Ciao E buonasera a tutti Faccio un attimo Ciao, sono caduto. Come oggi Come potete vedere Le mani Guarda le mani. Aspetta che forse riesco a evocare la seconda webcam Si Ah, ma quella è Manariu Senti te Ciao Zato Subito così Grazie Zato 36 mesi Grazissime Tanto è meglio di un calcio Sono ancora piccolino Oh, buonasera Tanto ciao Ciao Zato, grazie ancora per la sub Ciao Matteo Ciao Cartman Ciao Cartman E Che bello E niente Stasera Tocca stare svegli anche di noi vivi Tocca stare svegli Paolo purtroppo Ieri ha avuto un po' di più Non so se l'avevi scritto sul disco Dio scopo Ma un cazzo Sono un celtrone Quindi No, no, no Tutta la famiglia Tutta la famiglia Tutta malata Tutti malati Niente covid Per ora Esatto Almeno quello Però stanno tutti malati Vado su a Bologna Esatto Almeno si fa qualcosa Noi non possiamo fare altro che apprezzare Almeno una scusa per metterci a fare qualche giochino Volentieri Sennò poi alla fine non si fa mai niente Esatto Tieni alla televisione a guardare VT4 E poi E si sveglia solo quando urla quell'altro Esatto E niente Quindi stasera cosa facciamo Faremo principalmente giochi per il buon SK Poi dopo Ci scapperà qualcosina anche MSX Magari mi metto a fare un paio di giochetti anch'io Allora io non mi ricordo però Era due settimane fa Forse anche di più Un utente Però uno nuovo In chat Aveva chiesto In realtà aveva chiesto il memory Bubble memory Ok Che è più competenza di Cree Ovviamente E allora avevo rimasto un pochino d'accordo Che Cree avrebbe portato il memory Io avrei portato il symphony Ora Cree Siccome è un po' improvvisata questa cosa Abbiamo trovato tutto il tempo di fare prove E tutto quanto Insomma Alla fine Sono qui anche perché Succedono sempre casino Io ho una connessione pessima a casa Al mio viaggio col telefono Poi ho scoperto di avere So che cazzo succede col pc C'è un brusino di fondo pauroso Che probabilmente ci sono due spinotti Che si danno fastidio E quindi Cree Poi farà il memory la prossima volta Che siamo volonti Che siamo volonti Magari Ma non il memory Quello con i tasselli però Ok E' bravo Anche chi lo finisce un cc Quello E' bravo anche per Tra le altre cose C'era uno di quei giochi lì Molto esplicito Io mi ricordo al curso An iniziare ai giochi Montecatini C'era uno di quei giochi lì Molto esplicito Con le immagini Chiaramente fumettose Stilizzate Ma altro mi pare Però Era molto esplicito E' un gioco che non ho ancora ritrovato Sommame Coppie Coppies Coppies Ora l'utente diceva Non me lo ricordo Come si chiama questo ragazzo Ora Magari vado a vedere Quattro ore di live Ci ricordiamo la live Quattro ore Delle ultime volte Scopriamo chi è Facciamo esatto Una live Per commentare la live E trovare il nome del ragazzo Speriamo che ci abbia followato Nel mentre Non mi ricordo Così almeno Mi è partito un alert Ok E niente Quindi Ci sarà Bubble Symphony Cabal Mi faccio un cabal Così Ho convinto Ho vinto SK A giocare A Dark Anoid Ma per MSX Quindi Può succedere Qualsiasi cosa Stasera Tra l'altro Non so se adesso Vedi là Su quel cabinatino La Quello a destra In alto Quello a destra In alto Gli ho preso Anche Il Rotary Per quello lì Perché c'ha Il Canoid originale Uno Due Tre Cinque Dove C'è Un emulatore C'è E' Originale Taito Proprio Ah Senti Sì 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 Infatti Prima o poi Adesso C'è da organizzarsi Un attimino Prima o poi Faremo anche quello Vedi che lo sta Sta su una mano No no Quella scatolina sopra È solo La scatola Per i Rotary Una figata Anche importazione Sì 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 Ah beh Chiaro Ciao Aless Buonasera Ciao Aless Spettacolare Con le nostre concine Tutti e due Sia Zato Che Aless Grazie mille Grazie mille Doppio Guarda Così Te lo faccio Doppio E Niente Quindi Quello Arcanoid Poi vediamo Ciao Giadi Flipper Buonasera Poi vediamo Se infilarsi Qualcos'altro Della MSX Io ero curioso Di vederla Le prese Col Bubble Bubble Per MSX E E poi vediamo Insomma Dai Vediamo Oh Grande Scarax Buonasera Carissimo Ciao Ci date Per far partire Il treno Vai vai Che ci sta Facciamo partire Sto trenino Ci date Intanto Mentre voi fate Il trenino Che detta così C'è chi piace Non suona benissimo Però Mentre siete lì A fare Tatatatatatata Così Direi che facciamo partire Senza Senza Troppi indugi Eh ma C'è un trenino Molto lungo E abbiamo La fine dell'anno E Direi di far partire Il buon SK E Con Quello che vuole In realtà Quindi con Il più on sinfone Premetto che mi sono Andiato poco Lo stesso E premetto anche Un'altra cosa Userò Uno Userò L'autofire Magari Ma invece Di giochi L'autofire E Salverò soltanto In alcuni punti Te lo posso Mettere Dove proverò A Fare un po' Di grouping Estremo Allora E Fullscreen Options Configura Options Ah ok Video Window mode No No è lì Window mode Off No Window mode off Quello deve essere Un cosa Che avevo lasciato Per La live di Capitan Tsubasa 6 configuration Ok A posto Me l'avevo anche scordato Ok Quindi adesso Chiudo e Riapro Giusto Sì Ok Dove L'avevo messo per L'avevo messo per Quando facevo Le live di Capitan Tsubasa No Quando Quando Il portiere Tipo Scazzava La palla Sentite Allora Bom Andiamo se Parte Ma si Che parte Ma qualche Volte Da quelle Due Volte Tutto su Mister Mi ci vuole Un auto fire Ha ragione L'abbiamo tolto Era sotto qua Sì Ok Tutto Allora Allora Questo bel giochino Ovviamente Siccome è un bubble bubble Ai codici Il problema è che Nel primo era anche facile Aspettare un minuto e mezzo Mettere un codice Un altro minuto e mezzo Il codice Dove Qui bisogna aspettare Due giri di demo due giri Due giri Completi Perché lo puoi mettere Soltanto nella schermata Dove fare la presentazione Modello Modello palco E tutto quanto Oppure fare un'altra Splendida cosa Fa così Ah e carichi Di E carichi Che viene da Niente la posizione Con i codici I codici in questo caso Sono tre Volete si può fare Anche il supermodo Sono tre Ma già 5 5 4 Che Viste Passate Buono Niente 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 Allora Prendiamo la bimba Questi canici qua sotto Vogliono dire che Allo sparo lungo Fondamentalmente Fondamentalmente Che fa un po' più Cono in certe situazioni In realtà Ultimamente Nell'ultimo partito Che avevo giocato Quando giocavo seriamente A questa cosa qui Partivo col secondo player La pozione Non so se notate ma dal fondo si vede una testa ricordano che appare unità dopo una quindicina di volte il gioco elargisce una pozione Quindici 16 volte Che cos'è in genere Quindi al prossimo schermo No Abbiamo 15 15 18 Anche Si prendono 13 14 Una lettera Si ripete Il procedimento In questo caso Quasi tutti gli schemi hanno la possibilità di Di calcare la versione Quest'ultima E' una cosa un po' noiosa da vedere Anche da fare Però è quella che permette di fare Riesce anche a fare così E' più gli altri Ne ultimi Ho eliminato le bolle Ma se l'avessi lasciato Avrei ripetuto l'operazione Ma diciamo che questa cosa qua Siccome non l'abbiamo proprio calcolata Non so Ci sta Ci sta anche Inche in certi schemi Sembra quasi Che l'abbiamo Che l'abbiamo fatto a testa Nel senso che puoi caricare la funzione In certi In certi punti Sono tanti in certi punti Soltando le correnti Le correnti invisibili Scensionale Allora qui E' andata bene finora Nel senso che Ho preso pochi fulmini Ok E questo forse mi permetterà Di avere la pozione In uno schema in più all'inizio Si ingloba un nemico Si ingloba un nemico Perché così l'acqua non lo uccide Appena arriva l'acqua la prendi Ti fai tutti i diamanti E poi prendi la pulsione Certo Quanti secondi ti muovo Adesso Ok Ai tempi belli Mi muovo il rossetto E' da giove E' da giove Quando ero bravo Avevi lo scatto più veloce Zitto che guadagno Tre colpi Visto? Fai una passata Sparo lungo Serve qui Ad esempio Ad essere fortunati Rimangono tutti e cinque Si riesce A parte C'è un po' di latenza Rimane un pochino Però se Se l'inglobo bene In realtà Dovrei farlo Dallo scarino sopra Però non sempre Riesce Si riesco a farli Dallo scarino sopra Il gruppo rimane da 5 Sono sempre qui Tutte queste chicche Ora le farò Adesso nel primo mondo Un po' nel secondo Poi basta Che la sfera di cristallo Ti dice la posizione Delle cose Delle note No? Quella che appena Senti la Ti evidenzia le note Che non è poco Niente Ce l'andiamo a Antone Qui ma non lo prenderà Scompasso la posizione Scompasso la posizione Esatto Perché avrei dovuto Avrei dovuto entrare Avrei dovuto segnare Quel cos'altro Tu che adesso è diventato Oh ciao 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 Chiarissimo Tutto bene Tanto a posto Apre la live Guarda Il sempre piacere Quando si può Prendere Prima questo E poi Ve l'è dovuto La cosa da fare E' prendere subito Una nota Entrare dentro Prendere subito Una nota Bloccare I due I mici Che escono Che sono fuori Dal recinto Soffia Mi soffia Non vi siete scambiati Le case Sia in pianto Fianco Oggi Mi è venuto A trovare Un giratino Caricare la posizione Allo scapire Se prende La posizione Riesco a caricare Bene Altrimenti A parte In tempi belli Questa è una partita Da buttare via Altrimenti Si può caricare Magia Dell'autofire E se però Non scegli la corte La scelgo Un po' Si Se però Può Arriba L'altrimenti Ah ok Tra l'altro Questo Ce l'ho giocato Abbastanza Anch'io Perché L'ho preso All'epoca Per il sapo Questo C'è Convertito Per siga Sato E Fortunatamente Direi che Perfettante Sato Reggiva Come Arbore La faccia Vedere Soltanto Come si carica La pozione Qui Perché In realtà La pozione Non l'ho presa Sono andata Una sveglia Anche perché Ho aspettato Una riapita Ma non Che comunque La sveglia Non so Stata Buona Stato Stato Pensando Quei Personali Interformati Già In Super Modo No Questo Dove Essere Già Non È Non È Il Super Modo Però Sono Interformati Nel senso Ora Non Si è Visto Ma Nel Sesto Schema Ce È Apparsa Si Aspetta Il L'arriano App Appare Una Una Lettera Dentro Una Nulla Che È Una R Ah Quella Della Road Quella Del Road Si R Od Se Fai Si Completi La Parola Road Si Si I Draghetti Si Tassone Le Ci Stanno Sbagliate Sbagliate Molto Sbagliato 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 Allora non finisco giocati così Se non conviene e non mi ricordo mica allora luna era l'inizio la m era il boss finale n ecco cos'è f7 f7 che caricare no f6 f6 e spostati subito a destra si sarà meglio faccio neanche non lo so no secondo metterla da come se avessi perso la chiave ho questo sensazione prendere la prendono non è quello che si gioco bene in realtà la posso sempre prendere perché regola abbastanza chiavi per prendere anche il diamante invece del diamante ci sarà la chiave no però dovremmo speriamo non lo so qui si carica bene eh ah sì sì oh c'è un palloramento non avevo visto tenendo giù il joystick che va giù più velocemente ma penso come i testi del tempo uguale a come si fosse un gran master quindi a regola ci deve essere un diamantone lassù no è la chiave è la chiave è la chiave quindi hai due opportunità di non male non sono mai successo un bello che quell'oggetto lì che si libera quando prende l'ultimo diamante non è così scontato che uno se ne accorga se non lo sa di andare a prenderla si sbolla si dice quello poi in realtà non ho neanche tradotto non mi sono neanche preso mai la briga di andare a vedere queste cose che la sua ma trasforma trasformale 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 trasforma lì allora lì non si è visto è un'ampollina con un contenuto rosso trasforma tutti i nemici in nemici basi ok però non me la da sempre non ho neanche ben capito quali sono le condizioni però di solito da a questo schema se stai lì la prendi al volo perché non si vede neanche apparire perché praticamente appare sotto se la prendi al volo e poi col tempismo giusto salti verso sinistra ti appare una nota che questo punto sono soltanto che mille punti e basta però lì trasforma tutti rimangono tutti le basse ti tuffi giù fai grouping e poi da sopra lì rispondi rispondi così ma due anche poco fanno appare no a due normale però se sei già lì è meglio perché se no comunque dovresti scansare dovresti scansare tutti i nemici domandoli principalmente scherullata che mi sta arrivando qui mi ci è voluto un po per capire come caricare la porzione però si fa così qui mi ci è voluto un po per capire come si è voluto un po per capire come si è tutti e 1 2 3 l'esatto ora mi darà bacchio no non ce l'hai più il potere della della cosa che finisce dove stanno no dopo un po di cittura che scherzo potremmo anche non prendere a no c'era l'esterno c'è la lettera non c'è la nota nel meglio il popolino in mezzo ma meglio perché mi sa che piglia una barina in testa ma però fa una verità sulla nota no no la nota è l'inno e mezzo tra la e il punto esclamativo è l'inno e mezzo per cui l'avevo secato tutti tranne uno però era stato lentissimo comunque io mi trasformato è solo estetico sbaglio mi trasformato come gameplay e non è che vanno più veloci o saltano più in alto e cose così cambia a livello di punti non serve per avere punti in fondo serve anche per fare un po di punti durante il durante alcuni schemi perché quando poi prendi la d di rod in quello schema lì ci sarebbero disposizioni di diamanti è uno schemaccio di merda ti rimane un nemico solo di soldi se proprio aspiri a rod il problema del rod soprattutto nei primi schemi alla r è che devi aspettare l'aria up aspettando l'aria up mi salta tutto il giochino di pozioni mi salta tutto il pattern mi salta per quello che parto già ragazzo se no potrei anche aspettare gli aria up in realtà prima dove ho perso la chiave dove mi è scomparsa perché ho preso la pozione una lettera è lì però se prendo la pozione non mi arriva l'aria up perché o va via prima o la prendo la pozione sì che alla fine si fa un salvataggio anche questo è uno degli schemi da provare una cosa ecco non c'è soltanto unitemi 100 mettono qui ogni tanto si riesce a fare il 256 256 mila otto nemici che è il massimo che si può fare in questo gioco però anche qua non trovate la lettera in mezzo la nota ma sempre si non sta rischiando di no io comunque allora le note servono per avere la chiave e vabbè la chiave serve per aprire la porta la porta intermedia diciamo e andare alla fine verso la fine del gioco le note in più diventano un diamante no c'è allora diamante al massimo vale 80 mila mi sembra però qui c'è la possibilità di fare un da 128 256 più tutte le lettere che seguono che possono diventare anche una vita in generale danno fastidio le lettere ho visto che tendono di più a rubinare gli schemi a proposito ragazzuoli qualcuno valucca io sarò la il venerdì 28 l'ho programmato anche al 30 ma il mio nipote mi ha ringambato mi interessa l'ho programmato anche al 30 ma il mio nipote mi ha ringambato mi interessa la mia figlia che non l'ha ancora mai visto perché si è andato dirà come hai fatto andare di là ma ci va matta perché sei andato dirà lui che ci farà cosa cazzo ci ho inglobato che guarda di sinistra perché sei andato a destra non ho neanche salvato le risorse per vivienza anche qui ci sarebbe un bel grouping da fare ma è un rischio forte quella cosa è una scarpa per sempre che sono una scarpa per sempre che considera che ero già la riacqua questo si somma ora diventa non dico ingestibile ma molto veloce tutto quando va giù è notato saltate ora potete saltare anche qui ci sarebbe 256 però qui è completatissimo si inglobano bene o male ma ci sono qui due stronzi qui c'è il boss forse più difficile no il secondo boss più difficile del gioco più difficile lo faccio vedere poteva essere più difficile poi magari abbiamo dei diversi concetti di difficoltà diciamo così scopo educativo facciamo vedere la porzione come si guarda ma comunque anche il fatto di avere tante strade è stato bello poterli sviscerare tutto ma in realtà mi ha fatto un salvataggio perché la funzione qua buonasera orizuka ciao bentornato andiamo poi adesso mi riesce andiamo ora se mi riesce non è andata teoricamente sei li vuoi gruppare tu tu ti nel mezzo il problema è che sono inserciato ad un'aria no no e per questo che ho giocato sulla versione giapponese della versione giapponese qui questo scava dura 20 minuti, volendo, puoi stare in ultima 20 minuti scassi questo ogni tanto vanno direttamente, senza passare da te buono, due, oh no, buono dai vai diretto, vai diretto, vai diretto su, bravo allora, veloce così è rarissimo, ma veramente raro, ok, veramente raro ah, perché cos'è il tempo di fare ho anche questo tempo, ma mi avrei avuto comunque, basta sincronizzarsi un attimo con quelli che rimangono fuori è bello sì, questo Nizuka è sempre a scopo educativo quindi faccio vedere soltanto, non cercare di fare tutti e 19 passaggi 128, chiave, diamanti, tutti no, questo è venuto bene Sì! Esatto! Anche qui ci sarebbero abbastanza nemici Qua scrivi, non fai extend, no? No, ti manco da E Allora, qui non si è visto, però ho preso un oggettivo che è una cosa bellissima e del quale bisogna dare merito a Cree di aver scoperto il significato è una conchiglia, di quelle classiche conchiglie che si sente in mare, conchiglia rossa questa conchiglia raddoppia il valore delle esplosioni, credo, della prima esplosione dello schema in corso esempio, nello schema di prima, quello schema famoso che l'ho salvato, 128 128, ma se avessi avuto quell'oggetto lì diventa 128x2 Che non è male! Che non è male! Ora, io ho provato a lavorare un pochino, ho lavorato un paio di mesetti per cercare di fare arrivare questo oggetto in tre schemi dove c'è il 256 quello dove si fa meglio però ancora non ce l'ho fatta Oh, intanto allora, ciao Lucius, buonasera a te Ciao Lucius! salutone a pezzo di nerd Ciao carissimo! Buonasera! No, dove sono andato? Riguardo silenzioso che la mia piccolina mi sta facendo giocare con le bambole tu falla giocare col man! Eh! Grazie Akusai, grazie mille, gentilissimo un sube Sì grazie Akusai sempre vivo Akusai, sempre vivo anche qui ci sarebbero, non lo so, ho trovato mille volte a fare il grouping non ho mai riuscito c'è la chiave si si ma qui va presa la da sotto poi si prende qui e qui questo è un oggetto no, no vabbè, 9 su 10 forse no però 6 su 10 da FIA va a fare questo oggetto qui Tago tradimento Oh, Ano eh, oggi un po' di Pisa ce l'ho anch'io un po' di Pisa in casa esatto una zen session volo pisana avanti bene più in giù ad esempio quando andavo per il record i primi tempi, lo schema di prima è uno di quelli da 20 minuti di aria solo che c'è quattro nemici in croce quindi che fa ne lasciavo uno che faceva sempre lo stesso percorso che obbligato a andare nell'angolo opposto ditone sul tasto fai 20.000 punti così poi ho smesso comunque anche quando stasera teaser featuring asinali tower esatto ciao vignenzo buonasera no nooo tutto salto maledetto nooo farlo safe no no ho sbagliato l'acqua è fare lo stronzo c'è anche un'altra maniera ci si potrebbe buttare subito sotto però questo per il ranking ma no perché mi sono ricordato il patente lo sono ricordato dopo che era iniziato lo schermo ormai lascia stare anche la nota dovevo andare a sinistra però anticamente lo faceva andando subito a destra quindi ho avuto un partito il sistema parasimpatico avuto nel sopravvento sulla parte animale avuto il sopravvento su un cc e vr a symphony ma un cc ci sta provando si dovrebbe fare non lo so quello hai fatto mondiali varia sinistra questo è buono sglobatevi presto questo è un oggetto di vita qui è buono perché mi permette di andare su come di andare su come una scelta tranquillità se non mi sparirebbero gli amici ma la domanda per tutti gli amici ma un giorno svelerete come fate giocare più di cinque minuti esatto purtroppo se lo diciamo poi bisogna che vi uccidiamo tutto il complotto va tenuto questo dicevo il secondo boss più difficile questo è il boss più difficile ok tu hai sempre record a street fighter 2 e in realtà io non ho un record di punteggio a street fighter 2 anche perché è una cosa abbastanza complicata e noiosa si non ho un record di punteggio posso avere record di combattimenti cose così ma ma proprio di punteggio no tra l'altro adesso ho iniziato un po a giocare a street fighter 4 e ho guardato le statistiche da quando iniziato a giocare online su pc fino all'altro giorno e su x mila partite ho il 75 per cento di rateo con un massimale di 50 vittorie dietro fila che insomma poteva andare peggio a sengoku si a sengoku c'è il vr quello si e adesso sono molto fuori allenamento a sengoku però mi è rimasto nel cuore come gioco bello bello come mi serve si riflette sei spettacolare infatti non vedo l'ora che che esca fuori perché voglio tornare a giocare competitivo la mappa è tipo da un aiutante anche un personaggio ok non mi ricordavo fosse tipo le lampade dell'uno ma guarda il 6 promette benissimo ma sono di un contento a sapere come l'hanno fatto e che fra qualche mese me lo potrà giocare che guarda questo è un po difficile da spingere dentro però si può fare e giù mi ricordavo un 128 qui visto un 64 non è piaciuta questa cosa per te sei sembra una bomba ma conoscendo capo una parola di dlc sono d'accordo dato infatti io spero spero che faccio una cosa tipo e street fighter 5 da quel lato ovvero che tu possa tirare giù i personaggi in dlc anche facendo cose in game ok quindi speriamo bene dai perché comunque in un torneo dubito che ho che possono obbligare la gente anche chi organizza il torneo ad avere tutte le console con dlc eccetera eccetera in futuro quindi un metro ci sarà secondo me mi ricordo ai torneo di street fighter 4 quando invece per avere gli omini extra dovevi finire il gioco in determinate maniere che gli organizzatori si mettevano lino retta 2 prima e finiva nel gioco come 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 voleva la cacom per tirare fuori i personaggi segreti perché metti che qualcuno li voleva usare come voleva giocato anche per come la fine anche lì sono sei esatto in più che altro per la pazienza di mare esatto speriamo che adeguano siena da bet no vada almeno i presupposti ci sono perché sia un gioco molto più degno la capcom ha già detto in varie interviste che ha imparato cioè che ha capito che 5 è stato un po una nefandezza soprattutto i primi tempi e non voglio ripetere lo stesso infatti hanno dato una certa importanza anche al single player stavolta e ci sono delle modalità molto più fighe rispetto agli altri vediamo io come dicevo sono molto molto fiducioso cosa sono i dlc sono i contenuti a pagamento quelli extra quelli che aggiungono cose al gioco tipo in del caso di street fighter i personaggi aggiuntivi quando usciranno in un futuro ci vuole un po di tempo che è la figurati quando questo è uno schifo schifo non c'ho più tanta mano ecco qui ci sarebbe un bel gruppo da fare la lettera è lì nel mezzo preciso dove passa quel colpo adesso date su e non rompete con gli occhi guardi è andato l'altro scarpino e vai su e sbrigati ma ci provo anche se in realtà mi consiglierebbero l'opposto che quindi i due signori col cappello sparano anche orizzontalmente in realtà ne paura è scomparso è scomparso il colpo perché l'ho inglobato l'ho inglobato no lo deve fare il proiettile scomparsi più o meno è così comunque 128 un po parco di lettere anche se non è proprio inutile adesso faccio facile anche qui ci ho provato devo dare una pozione da sotto met caramelo allora tanto facciamo fare no sono saltato che figura di merda decisamente joystick è alto rallenta la discesa ah chissavo perché non mi ricordo il patto non sono così sicuro sbagliato il salto sbagliato sbagliato poi devo rischiare potrei farlo anche tutto così però ti resta solo una vita potrei anche farlo tutto così ma ci vuole un monte di tempo poi è facile che li da male quindi devo rischiare un pochino e dagli qualche colpo puoi poi mi resto ma significa che la poluzione si carica da qui vittoria svolgola intanto salvo ma non c'è sembra non ci vado prima provo a farlo io non devo fare il gruppo ci sono 4 dalla parte giusta così c'è quasi tutti sito sito su quasi tutta la parte giusta eccoci si girano a sinistra questi bastanti non devo aspettare il giro che figura di merda 40 quasi c'erano 128 hs quindi sta parlando di una vaan e cordone co Sì, c'è da me Tu dove sei uscito? Ah, vada a cagare Poi di provarci so Magari da stitare la di... Eccola, guarda Non ho dovuto neanche faticare con il più a sinistra Vedi come si faceva? Eh, si faceva presto Ti avrebbe di solito nei galvì pulito Quindi da non fare i gruppi Mmm, questi modi sono schietti Ha una bella flocca di lettori Questa balena dovrebbe uscire E mi permette di andare a prendere Questa simpatica nota In The Mountain Mix No ragazzi sono andato Tanti punti sto gioco non sei Non secondo me Poi vivite con i punti l'ho vinto Che mi dai di bello? Un bacio, un bacio marrone Che figura di merda L'interina, 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 l'interina No, l'interina, l'interina Bisogna che bacio Allora è più facile Quando vedranno l'ultimo boss Vedrete come lo faccio bene A lui, Nicola l'ho già fatto vedere prima Ultimo boss, una sudata Oh eccolo qua Oh eccolo qua Zompa Non sono tanto No, no, zompa, zompa Ci vuole un po' eh Ci pensano un po' Un zompato Cosa sta tenendo un sacchiotto di piatto E' un divano E' un divano Mi sbagliati Un po' Un po' Un po' Un po' Oh Ho l'ho Che cosa è ancora Un po' dai non so tanto gli stage vedo che si sono 60 ma dico che che ci mette un bel po la riapta da arrivare e quello ci dico che finalmente è voluta la regola 1 mi doveva rimanere lì nel mezzo mi serve per fare i nomi e altre cose e questo è già così se non vanno via perché intanto vedi sotto si allargano e ovviamente questa cosa puoi fare solo con l'autofile però ci fosse la vita sì che sono andato la vita c'è ho visto ci troviamo davvero vuoi che ti prendi il tuo bicchiere? un po' d'acqua si qui c'è uno schermo bastardissimo ma sono stronzo sono leggermente morte era l'ultima ormai non ricarico neanche la funzione grazie che fa ci provo? ci provo qui ci sarebbe un 128 con molta 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 e ora non c'è più il cugino lo faceva invece si fa una cosa fatta bene si prende un aiutante vediamo cosa mi dà un piccolo aiutante di babbo natale qualcosa del genere io non posso stare antichi eh ti piacerebbe anche lui è più lento eh ce l'ho eh ce l'ho eh eh ora conta anche poco di bucata vedi quel belluno in fondo al punteggio è continuo ahimè eh sì eh ma davvero dato dato poche lette vediamo un po' e qui ci serve una una combo anche qui andiamo ragazzi andiamo a qui ogni tanto 256 ci scappa il fulmine il fulmine il fulmine il fulmine il fulmine il fulmine che gli fanno molto meno male ci vuole un sacco di più tempo quindi non si può fare come hai visto fare qui un ultimo schema che ti spiega un cazzo tra i modi in corso un schema un utilissimo o un'altra il fulmine è l'ultimo schema veramente brutto ah perché la riuscita la riuscita la riuscita la riuscita è la riuscita Oh E' fatto bene lui Non è tanto d'accordo No, lui no Mi preparo un po' meglio L'ho fatto un po' troppo Allora, vediamo se funziona La finestra lui non è tanta larga Questo è l'ultimo punto Questo è l'ultimo La seconda fase dell'ultimo boss No Vieni, non sono troppo peste Cazzo No No No, no, va bene Ci speravo, guarda Questa è una botta di culo Poi quando mi concentrò in questo ginepraio di destra a sinistra E' Ovviamente non è Se non ero bimbo mi dava un milione Se non ero già tramutato in bimbo Dunque di soldi Le partite si finiscono 7-8 vite Ma è stato veramente Andato pochissimo C'è un bel 13-6 13-9 Non per vantaggio Una mia bella partita Sul canale Sul tubo Se la andate a vedere Non ho giocato come stasera Ho giocato un pelino meglio Non ho fatto tutti i grouping Che ci potevano stare E questo dovrebbe essere il Supermod Se ci sta Tutto Tutto E ovviamente Di confronto Quanto è il guardo? 14 e mezzo Ma io c'è un 13 13-9 13-9 Massimo Che dovrebbe essere la partita Sul tubo Sul tubo Sul tubo 14 e 3 In allenamento Così così L'ottima Ti deve entrare quel famoso uncetto Che raddoppe l'esplosione negli schemi giusti Ammesso che sia quello Perché potrebbero anche essere altri percorsi Io vado sempre a sinistra Ma gli altri Ma più che altro scanso gli altri Perché ci sono alcuni boss che sono estremamente rognosi Ah ecco C'è anche un mega invader Che è un dito nel culo Io mi chiedevo proprio se c'era un pattern di cose fatta apposta Ma allora un pochino ho esplorato gli altri mondi Però non mi sembra che ci siano tutti quei nemici Ho provato a fare un po' di grouping Ma sono mi sembrano cose più complicate E poi c'è questo invader Che ci sono messo Ma non riesco proprio a farmelo digerire Ci perdo minimo una vita sempre In confronto a quelli che ho fatto stasera di boss Sì 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 Quelli erano Sono bazzecole Quindi però non lo sappiamo ecco Non c'è niente di sicuro Non ci sono informazioni Ce ne sono pochissime Ci sono pochi che Che arrivano da Gemma E niente Io ti farei fare direttamente anche E caballo goloso Poi appoggio qua Leviamo l'autofire Che l'autofire non serve Certo 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 Tanto è sempre qua giusto Sì sì Ho provato anche a giocare questo coso qui con la trackball E' un po' veramente un breve video 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 Ah Vedi L'altro punto Una In evite Avete Un super giusto Scegli ne parlo Scegli adesso Va bene No le provano invertiti in due Ho detto Esche Vabbè Dovremmo che Una Dovrebbe essere e questo è un po più facile si fa un po di accademia che poi a pensarci bene questi giochi tranne che su computer da camera su console di questo tipo qui di questo tipo si nel senso c'è Wild Guns del Super Nintendo che è bellissimo da l'altro però dico proprio Capalice a per sé o lo trovavo su computer tipo Amiga, Commodore o affini diciamo ma per dire Mega Drive, Super Ners nulla ma disconversioni di questo gioco si disconversioni di questo gioco riescono a tirare certe fucilate che volano su terra per 10 puntate e poi e parlando di questo gioco ci sta non lo conosco questo è un pezzo della canzone se si fa un po di accademia si conta soltanto ai carri armati agli oggetti più grossi 5.000 o 3.000 punti cosa dà delle bombe dopo un po' giusto? ma è random non puoi stare anche mezz'ora e non succede niente oppure te ne ha 3 o 4 fili io comunque sto gioco lo evitavo a me già piaceva no senza che luccio come pensavo la palette se si può chiamare palette la palette sonora si sente che le coppie mh beh anche per poi sono molto coppie mi sembrava troppo poco rispetto al panorama generale oh sarà che io comunque apprezzavo un po' tutto quello che passava il convegno ecco una cosa che per me è sempre piaciuta quando ero ragazzina conoscevo ancora poco gli arcade che dovunque andavi c'era roba nuova e ogni volta eh si era proprio come scoprire qualcosa da zero è bello che spesso e volentieri erano anche i titoloni per scoprire mi ricordo la prima volta che vedi eh type outrun snubeross mamma mia il tuo gioco poi era molto diffuso si è vero questo si questo si 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 anche qua anche qua dalle mie parti si è abbastanza spesso questo è il seguito che ancora più bello l'ho giocato poco però eh si si quello lì per evitare che vengano fuori in realtà li potrei anche lasciare perché lo schema è facile le bombe che lanciano loro ogni tanto a loro volta rilasciano loro che si può anche lasciare in realtà il citturio il citturio il citturio questo alla fine io l'ho visto sempre un po' come una versione in terza persona di perishowulf il citturio alla fine ricordo molto eh vai tranquillo ago ti aspettavamo pure te anzi guarda mi avrebbe fatto piacere se c'era anche te stasera a fare una lotta però dai sarà per un'altra occasione ora ehi ma dove guarda importantini proprio ti piacciono eh che noi pensiamo di troutbuster guarda ci sono giocato pochissimo se non mi ricordo male è una versione tipo cioè sulla falsa riga di di metaslag se non mi sbaglio eh non ci ho giocato così poco che non non sono degno di parlarne né nel bene né nel male di metà di metà di metà di metà di metà questo è uno superposito a proposito di spese videoludiche adesso voglio vedere cosa spendere a lucca ho paura intanto se ho visto bene non c'è tanto di libri game che mi interessano quindi da quel lato lì non penso di spendere tantissimo dal lato invece retrogame potrebbe essere che quello che non spendere il libro e lo spendere il tuo game qui è un bel gosso il tuo game è un bel best man è un accidente ma con quello che aveva te raccontato quando ti aveva fatto vedere il tuo game in sala guarda Comunque tu che sei l'uomo taito dovresti imparare a giocare anche a Walfield Walfield? E' una specie di quicks ok però più futuristico dove puoi anche sparare però c'hai lo sparo contatto Quello è arcade eh non è Infatti quando l'ho visto ho detto E' chissà se il Walfield ci sa giocare bene Invece non lo conoscevi neanche Ah no Molto male Se è taito mi da taito E' fatti E' un po' di giochi pulciosi Mmm Poopoo E' un po' di giochi pulciosi Mmm Che scambolo a minare il camper line in fretta e in dolore anche questo mi ogni tanto diventa complicato che altro non si riesce a prendere i punti con la parte testa non si riesce a prendere i punti con la parte testa un'implificazione del camper la quadro tu lo fai arrivare al massimo per poi counter stopparlo anzi per poi lupare il rank e riportarla a 1 io preferisco cabal a blood bros io c'ho giocato di più a cabal con lo si tra l'altro c'ho anche la jamma di questa penso che sia bootleg questi bootleg ne giravano tantissimo penso che sia bootleg però c'ho anche la jamma mi giravano guarda è qua che puoi spaccare il ponte per il tempo no 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 si fa semplicemente si fa semplicemente si aspettano i i carri armatini da altre mila punti fino a fino a una tacca dalla fine dello schermo e intanto si spara a questi gesti che non si sa mai ogni tanto arriva un corpo ma è facilmente e scansate anche l'hanno preso a loro volta tutti gli schemi c'è quindi cominciano a piovere bombe dall'altra che non sono schivabili sennò con l'autocamma comunque è un cazzo però in questa scheda non c'è altri movimenti forse in altri schemi sinceramente ne ho provato questo è quello più comodo e alla fine è come dico a metà gioco ma due quattro schemi no se che è un metà gioco due quattro sono quattro movimenti 16 schemi sono vicino a prenderlo ho deciso di sbagliarmi poi chiù 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 ti fai quasi tutta la barre dei nemici e poi stai qui una ventina di minuti da sparare ai cestini sono belli esistenti si si ecco questi carri però devi avere giusto per facilitare un pochino il boss che non è difficile devi comunque sparare ai ai cestudi sperando che ti dia un'arma ma ero già almeno quando arriva il boss aveva già un po' più di potenza di fuoco questo questo è praticamente utile per tutti fare anche guarda questo è giusto non ferito se no per questo posto sono 99 bombe in effetti è un po' più facile 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 gli ultimi ah no ma sono 20 schede 5 e 4 ma poi anche per anche perché qui c'è un sacco di almeno pulisci subito lo schema insomma è agibile nel lago era il lago più profondo del mondo è un 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 scappata la doppia l'aria a destra sua gentilezza l'aeroplano da 7 mila bellezza l'aeroplano da 7 mila l'aeroplano da 8 mila l'aeroplano da 8 mila l'aeroplano da 8 mila l'aeroplano da 8 mila Grazie a tutti. 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 Allora... ... 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 2... ... 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 buonasera a tutti gli amici di fabrizio di fonzo grazie per essere qua e noi per festeggiare abbiamo buttato giù l'anfang esatto in vostro onore abbiamo fatto un po di quasi un cc stasera a alcuni giochi arcade adesso siamo passati a roba msx questo scorreggia e se ti becca con la scorreggia ti paralizza per qualche secondo bello che tu le scorreggia le puoi anche distruggere a calcio pure poter anche c'è di peggio c'è di peggio no oh grazie per lo shout patrizio di fonzi anche tu ti sai giochi su firecade fate bene questo non c'è sul firecade no no questo firecade no meno che non supporta anche lmsx ultimamente così la collisione si fa abbastanza aleatoria comunque ecco il cino eccolo che poi adesso questi sono i primi tre diciamo quelli easy dal prossimo ogni colpo che danno loro equivale a due tuoi di potenza bisogna stare vale attenti dicono dicono clic 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 ha perso la maschera? vengo che la maschera solo ti attacca anche la piana figata e ha e ha poi quando ti fa le combo di qua e di là si muove un po' a cazzo sai nico che invece credo ci sia fai cade ah si il primo o questo che questo è il 2 con la famosa impennata nella difficoltà l'ho lanciata subito la famosa bello alla zanghier nooo 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 non male adesso sono sempre più infami questa qua se ti prende male il giro ti massacra non ti sgamba nooo 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 e non puoi neanche continuare io lo sto lurcando e continuerò a farlo ancora per un po' ma vi apprezzo sempre tantissimo grazie gentilissimo grazie Cardo buonasera ma no è una bella partita ma MSX era un sistema domestico si ma nacque come idea di sistema diciamo aperto aperto un po' a tutti tanto che a parte che c'è lo zampino di Bill Gates questo è una delle cose su cui ha lavorato Bill Gates da giovane MSX e sarebbe l'acronimo di multi-system exchanger se non mi sbaglio o correggetemi se se sbaglio e era un multi-standard tanto che non esiste una sola marca di MSX c'era il più famoso che è il Philips c'era il Phonola il Sony era uno standard era uno standard esatto fondamentalmente mi spiegherò poco avere un sistema di punteggio con un sistema domestico ecco ci può stare si ma che poi questa è roba Konami questo qui la Konami è sempre stata una delle case maggiori che sviluppava giochi per la MSX si ha fatto dei gran capolavori sapevano sfruttare la macchina come nessun altro è uno standard che i vari fabbricati di computer potranno adottare che quindi andrò a tutti il soldo è nato in Metal Gear che senso? esatto si prima Metal Gear prima Metal Gear che è una serie di di giochi adesso di giochi di spionaggio è nato su MSX ovviamente con tutte le limitazioni del caso ma MSX è il computer che è adatto i natali alla serie di Metal Gear oh oh maggiore alla faccia attenzione alla zanghia alla zanghia Parodius è vero anche Parodius è nato qua ah sentite questo è proprio multi man sì 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 consigliabile se tagli addosso mette la maschera in bollo sono più rognoso eh si però quello che ho trovato più rognoso in assoluto c'è questo perchè la maschera è una bella pugnetta quando ci si mette non ci sono parte sicuri io per dirti oggi in prova giocavo coi tasti e ho riuscito a fargli perfect senza fargli lanciare la maschera però e adesso sono con lo stick e la maschera riesco cioè non riesco non fargliela lanciare poi volteggia fino a che non la colpisce si sa due tre due tre sequenze ma ha vinto la vita è proprio al momento giusto giovane 70 noi chiede se conosci qualcuno eventualmente che ci ha penso sempre si no che sapevano spende la cifra del genere non vendono prezzi allucinanti eh ma effettivamente costicchia col gioco lo sapevo però sì non mi ci sono mai messo a cercarlo perchè appunto non essendo appassionato di giochi di guida non mi sono mai posto il problema va bene dai proviamo anche qualcos'altro così dopo ti faccio fare un po' di un po' di albero magico diciamo un po' di magical tree vediamo questo è un giochino molto semplice abbastanza abbastanza semplice molto bastardo e il più sesto marello no e il salire quest'albero sono 2000 metri di albero adesso lo facciamo agile senza guardare troppo il punteggio pratica comunque per fare punti devi lanciare le mele dentro a letane diciamo così dove ci sono i gufi quando però letane sono del colore giusto ok quando è tipo verde ti carica il diamantone diamantone c'è un altro colore può non può dartene meno se se lo metti quando è nero ti da un nemico addirittura questo gioco alla fine si 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 lo finì già l'epoca bello perché io me l'ho sbattuto un casino per arrivarsi ai 2000 metri a 2000 metri ti da quella che dovrebbe essere praticamente alla fine lui ti dice bene ti sei divertito adesso scendi dall'albero come scendi? e devi tornare giù devi fare altri 2000 metri giù per essere anche molto preciso mi sembra un coso cosa che ti segue sulla liana? un coso mai identificato esattamente cosa fosse no 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 ecco cos'è la liana? un coso è troppo semplice una liana cattiva? eh si qua ogni 200 metri c'è si parietto cambia cambia il colore e si va ovviamente aumenta anche poi gli va la difficoltà bene nel colteggio di metri ti conta anche il metro ti conta anche il metro in più quando salti se la parola discendente te lo dirai si vabbè è preciso però eh sulla precisione non c'è nulla da dire c'è nulla ingegneristica ma è sempre uguale le piattaforme si più o meno si diventa più bastardo eh no diciamo che altro non è che camion è dinamico ah non è vero a 340 metri avrei sempre così piattaforme qui ehm boh si direi di si non ci ho mai fatto troppo caso in realtà se se a partite diverse corrispondono a piattaforme diverse comunque c'è 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 un abisso tra gli arcunfu e questo eh cioè come eh anche solo come grafica ah beh si ma gli arcunfu un piccolo capolavoro questo è più semplice è carino comunque perché comunque è giocabile si lascia giocare come direbbe il buon Ascarax ecco ah poi quando schiatti da capo? torna all'inizio del cerco si esatto del cerco che è la scala a un certo punto te che no? sì ah ah no giocone sì è enorme cioè ma Metal Gear cos'era un platform di 3msx? e no eeeh come si può dire un'avventura vista dall'alto con una bassa data di quelle cose lì che ti possono lanciare i fumi anche laterali quello è un odio mostruoso no star la fascia che cosa brutta questo è grave peccato questo me l'ho giocata bene la scenda giù non scende meglio ti metto sul canoide allora che giocone non è proprio il mio gel comunque ah cari alla fine ci passavi del tempo così spensierato all'epoca almeno un arcanoide quali erano i tasti c'è destra e sinistra un tasto solo la presentazione è uguale oh vediamo come se la cava nella versione m6 eh perché chiunque in sala giochi riesce a finirlo con l'attacco tanto ci ho perso un laser tanto è una grande ha messo a vita il laser questa è anche la barretta allungabile bene dato un impulso di troppo non è così quasi quasi esco no mi ha risucchiato no no Manuel la conversione è bella è fatta molto bene come il basso ormai perché è un po' scratch lo sai eh chi è questi pennati è fatta molto più cioè cos'è ma come la canone originale dopo un tot mattoncini troppo lavoro famiglia in ospedale mi fanno passato potevo questo spesso tutti i giorni coraggio scarax io sai che ti aspetto che ci facciamo in balotta il talk show quando possibile non lo voglio lo voglio però il laser è più veloce di quello di sale potenziamento vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro è stata una lista sa un azzardo è sempre bastardo ora mi punisce mi punisce lo so zitto 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 preso il giro buono tutto stronzo la rispudiscono sempre indietro non ci voglio vedere esce e lo rimane indietro eccoci morto incestibile così se non aveva già dato buona effettivamente preoccupare troppo troppo di là zitto 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 comunque già al quarto secondo me si va in bella era basso anche l'originale è una v era basso non vi grazie una b 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 parchi ai e parchi di lettere hai preso lo spinner per tassi sì 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 ne paravo prima con col buon Frank e sarebbe piaciuto il parere di SK adesso ce l'ho tutto là in alto è un casino però gli ho già detto che una di queste volte lo prepariamo bene e glielo faccio provare sono curioso anch'io di vedere cosa mi racconta ma il display che è così? è piccolino così il display? è piccolino così ma lo puoi collegare in HDMI quindi da quel lato lì tanta roba sbaglio il tasto mi sapevi quando è che c'è la pila pila era una vita chi non è esperto di arcanoia non avevi prenderla andavo pari erano 1000 punti in più a e a a a a a a a a dai 100 punti garella il primo schema l'abbiamo passato senza già un ottimo risultato questo è già un peludio di un cc così com'è salita che dura ma vuoi che parte storto così o comunque dai come con versione come ti che prima o poi se mi capita sotto mano una versione del 2 con la rotella con lo spin dopo ne parliamo ti farò giocare al 2 con lo spin esatto a farò giocare al 2 con lo spin della ms x nel caso che riesco a prenderlo sono entrato il look della parte sbagliata il giocchino fate uscire dal lupo sono fuori dal lupo ha fatto uscire su il giocchio non ci voglio prendere si do di un traspico aero lì ero è possibile quando ti accorgi di aver sbagliato parte già tardi tu che non accorgersi di aver sbagliato parte comunque ora sto ridendo e scherzando fra tutte le mie pensate un po' strane sulle live e tutto ce n'è una dove mi piacerebbe far provare un po' tutti dei cavalli di battaglia ma su conversioni tipo ms x commodore cose così per vedere se effettivamente si riescono a giocare bene tipo le olimpiadi tipo le olimpiadi fucile di 64 anche a rago ti proviene in mente di far fare un rastan saga dell ms x rax te di fatti provare questo o il bubble bubble magari ecco magari dopo ti farsi provare il bubble bubble sono più possibilisti non è gestibile una cosa del genere vuoi provare il bolle 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 mi sento più ferrato mi sento ma andasse sempre alla velocità giusta sarebbe una bella sfida sarebbe quello si e si accelera però diventa ingestibile quella cosa quindi bubble bubble posso chiamare si possono invertire tasti no perché sono a solo modelli siamo solo modello arcade storico allora cos'è che no perché c'è il c'è il salto e qua space cioè qua space e qui alt si qualcosa del genere allora alt space ok è giusto perché bisogna riuscire a expandere e cambiare tutto che ti cambiare tutto insomma invertire il... allora... e questo... questo... e era cartuccia per il msx? anche ma leggeva anche le cassette? si cassette e cartuccia in questo caso quello che stiamo giocando sarebbe la cartuccia 128k di RAM eh però vedi che roba che avevo fuori eh facendo delle belle cose ma io mi ricordo la prima... allora questo gioco qui ovviamente per mame è stata la prima ROM che ho scaricato Arcade Haven su... boh non mi ricordo che anno era e io ci sono rimasto male quando ho visto che erano... erano già i periodi dei Twilight e dei giochi da 600MB dai CD e queste cose qui... ma io mi ricordo che sono 200k... quel cazzo fa l'altro mi sta evitando piede il culo l'ho scaricato e funzionava ma insomma era un po'... il gioco dice che succederà tutto da ora... mamma si è toccato... non ti sei perso nulla stavamo sentando i tasti vediamo un po' se fai nulla questo gioco sì perché cosa lei prego scusa perché cosa lei prego sono uguali all'arcade 2440 sono i dolci sì sì allora darà anche le porzioni Nell'arcade se scendevi giù dalla piattaforma e tenevi riprimuto il salto saltava al volo no 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 te le trasporti diamo un zuppo su c'è la viola solo ma la viola è mica quella la scarpina ci vediamo chissà come la regola dovrebbe essere saltando ma dove va quello no 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 sì dov'è dov'è? c'è la regola da lì no no sono caduto male sono caduto male vai manca alla te Non ne voglio più L'acqua è bella però Certo viaggio No, dove è andato Andiamo 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 antozzo e vita Chissà se funziona il trick Chi sarà il possibile farlo Cos'è queste raggiate Non sto scherzando Che fucilate che tira Anche l'acqua Certo viaggio al trick Ma no, davvero Si ci sta Che vuole in casa in terra Dice tutta La dina va a prendere La base 660 Vai 40 E' stato E' stato generoso Però non è verità Ci vuole andare un po' bene E' parto un arrazo E' uno schermo Pozione Ai nostri caramelli C'è un limite di bolle molto basso Dice Di l'arcades Possono fare fino a ventina Una ventina di bolle Qui non è Forse perché Non le gestisse il gioco E' affatto poing 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 e ciò viene non è che va qui è andato? no la porta no è scomparso ma che ci fa la porta qui? con 10 schemi? è interessante cosa faceva non si può salvare maledizione dammi il bacchio dammi dunque dai il feeling no no c'è c'è la voglia poi sarà meno colore però no sì tutto buono quello che fa gira il loop si 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 sono d'accordo parlo ma di quel po' infatti questo poi è m6x2 questa cartuccia m6x1 faceva molta più fatica a girare a far girare una roba così io avevo una bella voglia da ragazzino a sperare di trovarlo nelle cassette da edicolo a stagione l'acqua è così veloce che non gli colpisce a meno che non sia proprio lì sulla verticale ma è bellissimo non perdona qua l'acqua è avaro di lettere anche qua e ora qui che succederà questo si mette nella razza di questa mia figlia capito? non resta sciunziondo eh ma questo è pericolo non è che puoi stare lì a pensarla la prendo no no la volevo prendere invece è proprio andata via una conversione eccellente vedi anche Kato eccellente hai paura della fucilata no ma è un doppio avviso della miscilata un doppio avviso eh gattino ah ma dai che no che lealtà assoluta e ora adesso riapro subito dopo la cosa l'ho voluta fare come comincia la gioca ne sono neanche accorto giù è tipo una fatale e questa balena dove dovrebbe andare eh sta bene lì mi sembra anche me io prima che diventi rossa la potrei ma togliermi la curiosità tu sai giocare anche a ciacche in pop no schermo no 32 mila dolce 2000 per schema no no le so che voi partite subito è bastardo chi era e ora eh quella la vuoi adesso eh poi ci entri no oh io c'è gente c'è gente ecco gente qui la differenza dalla sala è che qua rimangono incavolati anche se muore ma si va siamo molto incavolati subito cos'è sta velocità guarda niente quindi un toon bubble bubble da pro non riesci a giocare no è più difficile ti sparano più forte si incazzano pensa che se ti fosse allenato in questo quello da sala te lo mangeresti cibolla sarò e piglia la sta scarpina maledetta ciao kartman buonanotte grazie per essere passato a trovarci come al solito grazie mille voglio prendere grazie mille ma dai oh bella è andata la porta si va andata vieni vieni giù vieni vieni ciccio vieni che razza mi sa che vi è venito è accorso mi va bene mi savi senti Ti prendo anche da qui Ma non mi dire che rimani per stare lì perchè Ave Maria Peglia sto cazzo di fulmine piglia C'è anche la palena a duemila d'ora La balena giuseppina Ma vaffan Ah 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 Chi che interna la porta no? Non c'è che dov'è E questi dove vanno? Alla parete non ci dovrebbe essere e questo rischia ma questo non è in modo che faccio ma perché lo sa che sembra cucinare si sente proprio l'ordine il suono di quello spalle l'usci se l'ultima Ah Non sta attento di questa razza Però viene da dietro Ma io sono pronto a caro la mia valena ci avevo visto molto chiaro Vito fumile avrete fa la passata del video tutti e quattro al volo e anche vostro Ce l'ho detto? Si è fatto per forza, erano tutti sulla stessa riga Ma dai E ora? Buonanotte Fabrizio, grazie ancora, alla prossima Cos'era? E grazie anche per il bit Ah, ma allora si passa Mamma mia Io vedo la cavelina Ah Ma la T Te la siete smettegata la T Vabbè questo non si è incastrato Oltre ai giugolari Ti meriti altro, solo il volo si meriti Qua il shart è fatto meglio che in shart Qui si fa meglio Che in shart si shart Che in shart era il pixel Un po' Un po' Un po' Non potevo chiedi spagnale ah Ha presa distinta proprio Devo fare cose a meno che ora mi davano le lettere forse Se c'era la speranza di quattro e ne sarebbe a casa normale nel giro della fine Il fuoco come funzionerà tipo ti raggiungo una fiammata unica fiamma che lo schiamato tutto quanto Ti pareva che non vedi a risolto sembra di poter entrare via sto fuoco Allora c'è anche la pallina al culo Che razzano Eccola incredibile andate via di qui voi tre Via io andrei dalla T La T non va via io sto aspettando mi sono infugnato qua Sapendo un po' come si comportano gli amici del sole Allora questa questa è una ladrata di quelle clamorose perché nell'originale si blocca nel muro Si blocca nel muro sì non c'è spazio Tu devi pensare che questa è la versione pro Questa è bellina questa cosa qui è bellina Non è bello lo sfondo perché l'hanno fatto tipo un geometra che l'hanno fatto Però va bene l'animazione bellina Allora questo è un'altra cazzo andrà questa gente qui A me anche le dà agenti utili Ma sono morta come fai a peschiammi la barema Dettaglio Ma poi è imprevedibile il comportamento interno Tipo dove andrà ora sta balena Pozioni niente comunque Sì ciao tutti insieme Se quanti tirano una saraccata Ma io vado via infatti Ciao Guarda si fa così Non so bene leggere e scrive intanto che abbazzo Bravo Poi quando fa qualche letterina La regola è una delle due o tre La rossa La x Finito? La n ce l'ho già? Sì no Io apparivo sotto il culo ma appariva Andiamo via va che Sì no La balena E' il trasporto No Vieni fa V Corti dall'aero rossa Cosa che io mi sglobavo prima Stiamo scherzando Andiamo a andare a farli qua Via fuoco maledetto Ah è andato sotto il fuoco Ho preso la balena Ho preso la balena Buono Grande E allora che cazzo arrivano a fare questi Eh forse lì è buono Si sgloba dopo un anno secondo si sgloba Uh che carino Se ne ho poco non c'è ma va Allora e ora? Ho il continuere con un player solo o no? Il continuere con un player solo o no? Il continuere con un player solo o no? Ah capito? E allora Che cazzo spiega Qui non esce sta vedendo la mia regione Questi quattro non scappa sotto No 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 ma non puoi fare così Pur qua Via sti fuoco Ah c'era un fuoco sopra? Un fuoco sopra Un fuoco sopra E Ah stavo dicendo È rimasta la balena per forza Dai Una fiamma ha beccato un coso E Erano 5 però No è un glitch È un simpaticissimo glitch E ora qua Succederà Una breatta fa Un po' uno di là Con i fulminili quelli Oh 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 6 7 8 9 10 12 13 16 18 20 20 22 12 12 23 24 22 22 22 23 23 24 24 26 23 24 4 24 25 24 26 25 Già Sinistra salto salto destra sinistra A parte potremmo anche vedere se c'era il coso Rascal Se stavi di questi Ciao Da lì il silurato Ula Fai Va poter distruggere il volo per fortuna Meno male Sì mi è andata bene Anche la vita E' arrivato a punto io Certe fucinate Che vola in casi terra Per dieci puntate Pover Che strana di lusso No Insomma Facciamo C'è un'è La scottina E C'è un'è C'è un'è C'è un'è C'è un'è C'è un'è Un'è C'è 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 un'è sono gentili con tra due atta della ricerca nell'originale sono molto più il funghetto al posto della la connoche ci posso stare i zompatori anche abbastanza tranquilli Ugo 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 Ci sono un po' che c'è questa manca cito c'è il fuego no mi sembra che mi è casa la vedo come un ottimo alternativo volevi la banana la cipolla un altro ride grazie Andrea Pippo per il ride buonasera e benvenuti grazie mille e benvenuti a tutti gli amici di Andrea Pippo stasera stiamo provando un po' di bubble bubble per m6x m6x2 in questo caso un bacchio lo prenderò se potete fare uno shoutino al buon Andrea Pippo ti ringrazio gassoli ora questi fuori no devo stare qua non ci voglio credere mai non ha capito perché non l'hai non l'ho ucciso aspettavo di essere in alto siccome ho preso il bacchio se no poi non posso prendere la furtta si blocca in basso questo simpaticone ma si è rifilato là dentro si è rinfinato se vede che si trova vero ma io non ci voglio credere prima avevi fatto quello di precisione beh l'avevo fatto al primo po' e adesso deve saltare ma io no no cosa si entrava così allora stavo qua scusa non mi stavo rompendo i coglioni mi stanno peggio oh ok ecco ci stavate che raggiunga che partono ora non so se ti dà lo stesso rapporto per piettarlo teoricamente non sono morto non è un gioco da giocare più a scopo il punto di gioco mi si è cancellato tre immagini orange in quello originale questi schemi qui hanno tempi di bolla che lavorosamente bassi tre immagini è riuscito a uccidere a sbollarsi contemporaneamente capite ma dai la cosa sarà meglio è che se la collana va a farsi un giro su sarebbe ben a poco però e quello? ecco detto adesso lo vai a prendere ma certo come lo e che ci vuole? bello non me lo immaginavo neanche guarda che si sarebbe incastreti non male perché era un ultrasuoni nocivi sicuramente oh questo è già odioso anche in sala figurati qua questi chissà cosa lancia c'è messo un'ora a saltare guarda che fucinate che razzate che tirano posso sapere incazzate ma stai prendendo il tempo due bolle e un salto due bolle e un salto ho fatto finito di partire ho fatto finito ho capito è istantaneo com'è che muove? e se avevi finito ah però poi continuare non da capo e a mo anche coi due mini uno l'ho preso subito adesso vedi non fa l'incazzato e andate su che cazzo ci fare ancora qui oh guarda li puoi aspettare adesso ma ora è ora è diverso però ovviamente si abbassa anche le bolle non esplodono più subito così durerà uno schema questa cosa vabbè va ma invece si risetta appunto allora avevo fatto 700.000 signor punteggio quindi torna la possibilità di giocare o per scuola anche questo esattamente prossimo potrebbe essere abbastanza meglio sì due a me piace come tenti di sgattaiolare via immediatamente perché sai cosa può succedere non c'è previso scandaloso scandaloso prima se è entrato in un buco eccoci ma non ho anche mancato di anni però che se lo si può ci mostra un buono scambio decisamente vantaggioso conoscendolo un po' con i codici ovviamente ci vuole la velocità è tutto ci vuole però diciamo che è una cosa del genere avercela a casa all'epoca sì più che più che più che più che anzi pensa in un'epoca prima no no voglio no 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 dobbiamo finire il memo? qui la guardia non scherzo nei cartes eh si il problema è che sai cosa? che era per m6x2 questo quindi è vero io effettivamente già compravo le cassette dell'edicola da ragazzino oh vedi che sarà questa guarda che in che schiamabello me l'ha data e speravo davvero di trovare una cassetta invece non era possibile perchè era solo su cartuccia per m6x2 però io all'epoca non lo sapevo e speravo ogni volta non lo sapevo mai no per m6x1 no almeno che sappia io no non so se ci sono versioni un po' fallocche diciamo per m6x1 ma ufficiale almeno no non lo sapevo mai ah non durava? ti chiedo più con i sacchiotti e ora non uscite non fate nulla, non si sa che combinare devo andare a peggio, ci si può stare volevamo questo ma soprattutto demonia eh si proprio quello mamma mia che giocaccia demonia una volta magari lo rimettiamo guarda che bottigliate ma stai scherzando? meno male ho preso al volo questa è importantissima sto scherzando comunque una volta prima o poi lo ritiriamo fuori demonia per farci due risarli quanti passi? no no ti puoi direttamente alla fine 25 scherzi? 25 scherzi? che va andare a peggio lo prendo anche così allora forse quella al decimo stage ha una specie di... di wolf sono stati bello sono stati diamanti e ora questi... ecco mi dicevo che razzate tirano questi ora beh comunque in confronto agli altri neanche neanche tantissime ah ci si può stare buono questi sono rimasti bloccati laggiù non male non male una creme biancola e rossa ci posso stare tutta l'aria? 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 ma cos'è sta roba che? buttati buttati ah mi butto ma ah ah strunzo il cosiddetto bacio della morte c'è una finestra seppure ha preso l'acqua nella testa tutto aspetto uguale a noi due grande stanzone ben razza questa se la voglio risparmiare sta bolla da un nanosecondo e quindi partivo la manchiazza di bubble bubble gross and ghost geerus che non ho mai capito perchè non era affatto e visto che c'è il problema che vuole beh allora aspetta però geerus penso che ci sia per msx mi sembra di si sa il geerus ma mi sembra ma una cazzo di acqua nulla su giro no proviamo così vediamo che se c'è augur e se non dai acqua che cose tesoro ah ok usciti questi anni da porti di recco perchè mi sembra di averlo visto ne avevo fatto così ma mi sembra un po' una forzatura perchè si aspetta che tu fossi già pronto con scarpine con le chicche e cose varie non lo prendiamo così ma non ho non ho hint su come ho affrontato tu stai andando anche tu stai andando anche dove aspettare da lì sopra si ma è qui si notte manuel grazie mille eh alla prossima vediamoci che posso mentre qualcosa è così non mi rimetto qua però devo fare uno per parte sono d'accordo scarax sono contento anch'io mi rimetto qua mi rimetto qui devo fare uno per giro devo fare un po' saltaria appena passa facciamolo così vedi che la faccia eh si mi senti speravo che mi desse qualcosa un'acqua un fulmine un un inferno e brand una cipolla qualcosa bella argento mannaggia eccoci questo il valeno vabbè speravo che vengano giù notte paolo raven ciao paolo grazie mille carissimo ci provo scenderò sempre un cielo la mitica Konami ci credo ma vedo che non stavano imbollati tanto no no è nulla fatti no lo son detto ci provo dovevo rischiare il cuore non mi fa qualcosa di fuori non mi fa affronta questa che sicuramente stanno stanno inglobati zero minchi non ho saltato via ormai ma anche a venti stage dai hanno curvato di qua dovevano scendere o forza va da ma la buffonata cosa salti ah bisognava andare giù c c c c c c c p tanto due vite tanto due vite giusto per aver fatto qualcosa tre vite eeeh che ci vuole così nel primo gioco mister cin ma sai quanto mi sono divertito io mister cin era una roba assurda ci passavo le notti ah vuoi aspettare la ah no una roba la oh ciao emu buonasera carissimo buonasera e benvenuti a tutti gli amici di emulare che passione stasera stiamo giocando a bubble bubble ma a versione m6x2 stiamo provando a vedere il buon sk come se la cava con questa conversione ciao emu buonasera ancora e grazie mille come al solito il fuego se potete fare uno shoutino al buon emu intanto qualcuno che è rimasto vabbè è semplice ti butti giù da lì spacchi qua ma il fuoco quando sei giù quando sei giù salti le trolle scalzo e scalzo i colpi che ci vuole guarda io quasi perdo due vite dove è la balena dove è la balena ma almeno salta te no io non l'ho preso guarda al centro cosa vuoi rimanere al centro no si dai tanto morire per morire fa morire al quadrato cosci meno merito però visto l'hai recuperato subito meno merito oh ciao gasnotto notte anche a te adesso vedremo difatti anche anche admin esca che secondo me te lo metti non troppo velocemente magari dove andate per un chilometro e poi in realtà se sei molto da poco sentirà il rumore ma non l'uomo rimasto dalla chiedi che sarà giochi mi faceva spendere fino all'ultimo gettone tanto benvenuto e buona serata per luigi è questo è uno di quei giochi che hanno praticamente un po tutti noi nel cuore dai stiamo giocando la versione per m6 2 in questo caso stiamo vedendo un po le differenze stiamo valutando un po il confronto fra la versione arcade e quella da m6 2 che per quanto abbiano delle differenze comunque sono godibili cioè con la sala ovviamente però dicono che questa qua della m6 x2 è godibile molto come versione è un po più difficile infatti questa è stata sempre un po la mia curiosità no far trovare ai ragazzi del gruppo le i loro cavalli di battaglia in versione versione computer console che spesso e volentieri sono differenti da quella che il mio affare passettino forse troppo è andato io ho sempre detto il foglietto con i tasti per sbagliare il potenzialmente la versione super è andato mi sarei fatto per stare assato addirittura eccoci storie che fucilate ora però ci vorrei scommesso bene c'è un sacco di fucilate no bada questo anche in sala c'era la parola da aria no questo era diverso era in sala questo l'ha fatto cosa l'ha rifatto uguale l'ha rifatto uguale babich si babich nel cave c'è uno scambio Harry questo è una cazzo l'ho visto ah anche questo c'è in lo schermo quale ma è nascito eh beh hai fatto 5 lettere in uno stage ci si può devastare ma quanti ne vada? ma sono 100 si ah ce la di vai che scrive tanto anche questo è fatto per quello che durerà nice bonbon ah è trasparente lo dico io sparerei ma i fuochi sono non spostabili deve aspettare deve aspettare anche andare su su adesso e a maledetto no non si possono spostare cioè si possono spostare però non deve essere precipitoso vai vai la c'è il punto g e ora e ora vediamo se funziona il trucco non funziona un cazzo funziona che le ammazzi così il principio di una vita le ammazzi è bomba 5 mila sua generosità ma dove cazzo picchi c'è su youtube un video con 10 ore della musica del gioco ogni tanto l'ascolto qualche minuto alla volta ci sta ma assalta gesù cristo ci sta ci sta chi è che non ce l'ha sempre in testa sta canzone no dalla parte sbagliata subito qui avranno tempi 0 di bolla esatto si materializza lo libro no sei in buco libro no io non l'ho preso allora sto qua e aspetta qualcosa ah già è vero onore in buchi si sbollano bene si sbollano bene amity andiamo bomba bomba o non bomba un altro comportamento rispetto alla sala sono qui educa no qui li spostavi tutti proprio è proprio è che i programmatori sono riusciti con l'imbo island che era un seguito che è riuscito a non fare il piano è vero è vero è vero colt l'imbo l'imbo come e questo caso sei l'uomo qui si c'è l'imbo e l'imbo ce l'hai l'hai verde va bene Paternite Questo è un giro diverso Questo è uguale Come una specie di dromedario Andata cicciolone che l'originale c'era un paio di invaders che scopo il cazzo qua e noi la prendiamo perché cosa giusta io i primi tempi a luigi che ho avuto un camminato in magazzino da lavoro quando rimanevo da solo con l'origine soprattutto in vero che c'era meno lavoro magari adegna fare un po di manutenzione materiale così lasciamo andare la pandora sulla demo di metters lag 1 sulla proprio sulla sulla tracmobile come si chiama eccoci e beh ha il suo perché facciamo la compagnia e ora l'acqua ogni tanto al lavoro quando riesco mi metto su il mame che l'ha adesso mio collega sul computer e mi ascolto gli attack mode dei giochini mentre faccio altro no e però ci arriva e ultima volta me l'ho messo tocchi me l'ho messo mi ricordo che l'altra roba però si da un po l'idea della sala giochi guarda tanto vediamo se fate come i vostri omologhi nella sala giochi mi basterebbe che mi incastraste da una parte qualsiasi su zompate vabbè già così stavo per dire occhio che c'è un po un po troppo avanti al limite inglobato ma ormai sono saltati gli schemi ti sa di boss finale qui ora ci dove vai destra o sinistra? in solito non ha sposte neanche capito no no rimane ferma lì e invece a sto giro l'hai costata ho capito e salta un pochetto salta tesoro di mamma ho capito non è che puoi buttarti giù tu riesci a mettere lì e magari adesso va avanti e si butta giù se salto mi vado a finire il buco no se vai solo avanti ah ok no no magari no 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 ah continui signorina continuo a capo come il cazzo ci arrivo di là mannaggia a te pure una volta magari è tipo quella che ti fa dombellino si fa saltare lo schermo non da via ma ora rimane bloccato lì aiutato gli ero fumigli si di blocco c'è un senso come cazzo era ma poi la cosa bella che ne poteva accorgere perché c'è si vedeva che non poteva cascare da quel buco singolo via facciamo piastro due va dove cazzo è andato le due non c'è più un foco né che è pregato la balena a regola dovrebbe morire lei è in mezzo a voler essere pignoli e ora abbiamo capito no ma è brava la bufonata c'è deve essere proprio lì adesso giro c'è un'ora per andare qua zitto una volta del culo mai eh ultimo boss che fatica eh serve allenamento poi senza senza scartire nulla questo tirerà delle fucilate no ci credo ah li fai anche qua anche qua preparare i colpi con le cose sì ma che bisogna intanto bisogna scansarli se mi fa continuare sì perché poi l'ultimo boss è meno difficile di certi livelli sì però insomma diciamo che ci mette il suo eh sì ho capito eh mi parla e non mi parla dai sono caduto giù nella sventagliata assassina cos'è? vabbè via trial and error comunque dai eh sono abbastanza crediti per chiamare la partita epica secondo me non so cosa si sa ah ma gli spara verso di me ecco perché le vecchie sempre ma fai amore ammazzato ma dimostri di avere attenzione verso di te ora muori subito eh ma dovevi andare di là ma non è buffonata ahahah ma prima scusa ci lo vede fatto ma veio sta andando a due l'ora mi deve stare alle spalle ogni tanto spara dietro ogni tanto spara avanti ma non c'è la logica in questa cosa un'ora di immobilità neanche ma è tutto random stai capendo stai capendo è pure di sbagliare è un damaku guarda in basso ma dai ma dai ma dai ma si serio ero sempre vivo guarda è anche troppo onesto che ti fa i colpi dai onestissimo guarda lì che rullate che c'è no collisione degli stridenti no no vai via di lì qualcuno sa quanti colpi si voglia in chat per favore ahahah adesso come mai con un centinale di colpi te la calco no e paralo sto cazzo di colpo però non fa pinta non fa mortacci tua ahahah lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo la finestra è inesistente ah 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 non ci devo provare se non mi chiede se no se è come quello vero stiamo qui tutta la notte che ci vogliono tanto dai madonna di cristo santo va su oh ammazza i bravo ti diranno bravo ti diranno guarda un'altra spalla mia le spalle non c'è in piedra qualcuno vada a vedere quanti colpi ci vogliono ahahah ahahah guarda io da ahahah 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 ah 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 ma non lampeggia neanche a ah 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 il sistema è non farsi non farsi immobilizzare lui c'è anche cosa c'è anche uno specie ispirato guardando se deve diventare rosso se a sorpresa ti si imbolla dai ma che bufala comunque ci vogliono un milione di colpi ci vogliono il tizio qua comunque ce la sta facendo lascia stare che c'ha vite infinite però alla fine ce la fa con vite infinite si dopo un po diventa bella dopo quanto un po di colpi da se si stata al telefono quattro minuti e mezzo sei stata al telefono stai sempre a guardare tutti i particolari no ma no ma ne bufonate basta mi rifiuto ci metto un altro centone e poi basta dai dopo sei proprio schiati se ti voglio provarci anche per farmi dove sa e perchè non ti difendi ma che zaccato che vedrai si fai cose per difenderti anche e poi ci sarà anche un partner ma non c'è e poi sta un'ora immobilizzato lì con ma non 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 c'è una logica a regola in sala giochi addirittura si riuscirà a salire con i fumi riuscire anche andare su novesse abbastanza invulnerabile ti può andare avanti e indietro al centro dello schermo e poi sicuramente usavano l'autofilia perchè? cosa ha fatto per uccidere i fumi riuscire questo comunque succederà anche in sala giochi ah si? questo si no però ogni tanto passa un colpo, c'è poco da fare così fin qua è giusto fin qua è giusto un colpo passato un colpo passato ciao poli ma ciao questa versione m6 è la versione non compro più questo gioco è giusto è giusta ma infatti ero più che osservavo interessato in questo che arriva nell'angolo uno si è morto pratica? no allora lui ti bersaglia in una certa posizione se ti muovi se ti continui a muoverti no via 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 eh vedi la lancia addosso devi andare a destra e sinistra e via via oh quando è in alto che tu ci passi sotto va alla parte dell'altra l'unica cosa è scoppiare le bolle col salto perché così se no ci rimane incostrato anche te devi stare quando si il fastidio è che vieni insaccato dalla tua stessa bolla no adesso è partito male però però c'è ora di Natale potrei adorare almeno fino a Pasqua da Natale a Santo Stefano e poi ogni tanto va a destra e ogni tanto va a sinistra eh ma lì è per assicurarti il divertimento che non che non fa sempre quel pattern e non ti annoi perchè adesso adesso non ha sparato la posizione dove hai gli ha sparato dove stanno andando c'è una finestra è piccola eh si ma è c'è una finestra è piccola eh no gli ha fatto la finita gli ha fatto che ladrata è la luttante questo effettivamente è un po' adesso ho fatto 6 fino a qua no si devi trovare il metodo di fregarlo girandogli intorno facendogli sparare cose a caso è più facile a dirsi che a farsi il metodo di fregarlo Grazie a tutti. Mi avvicino da dietro e chiedo come fare sicuro, vuoi che ti faccio io il boss? Questa è dura. Mi sa che non lo finiremo. Ah, ma lui con le vite infinite, sai? Qualcuno ne avrà finito, eh. Se no, in maniera normale. Legit. Ah, no, sicuramente, probabilmente devi capire un po' lo schema che ha lui. Forza di giocarci, giocarci, giocarsi. O se no si abbassa così tanto i ranking che dopo di bastanti a colpi è morto. Questo lo dovrebbe già essere morto. Alla prossima. oh si allora una cosa che ho notato parte questo è che tu stai medio invece che basso lui fa molta più fatica a ucciderti lui sta a cieca questa altezza qua allora allora buonanotte castoff io con pari in sicuro scappo a letto e buonanotte ti poco ormai l'abbiamo fatto quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto no questo qua è un casino molto un casino l'unica certezza che hai che quando sei morto riesci a prescindere ad andare a prendere il coso quello si quello sarei brillante abbastanza tempo per perdere subito la pozione non è dura giusto è dura che te le può lanciare anche guardando dall'altra parte che poi hai visto in realtà tu te le tira addosso e tu te le tira dove stai andando li panto nooo mamma mia ragazzi però guarda la trovo comunque una sfida interessante per quanto è strontso perchè ad ogni partita ti fa quasi sembrare che ci sia un qualcosa da capire non c'è Sì. Cioè sembra che tu le puoi Le puoi bloccare Anche senza il fu... Cioè con la bolle basta Senza il fu... Scusa Si risparla Blocco no Che meglio E' un pixel Ah niente Fammi vedere si spara sempre dalla stessa parte Bastarda Non bisogna sparare quando sei a te A terra non devi sparare Sull'ultima riga del lumino non devi sparare Se ti blocca un fulmine che è morto Nooo basso Infatti il casino più grande è che ti blocca per troppo tempo i tuoi fulmi Forse un po' meno bloccato Jun啓 A lui grazie aMu un paio di gettoni sono cominciato benissimo mancato pieno lo cazzo deve andare sta direggendo un buon pass è partito troppo da cos'era? no ma come fai a rimanere bloccato a mezza ma vai a lo riammazzare ma madonna ma quella da primo spavita poi spavita non si capisce un cazzo non vivo? si ah ecco non per molto ma no basta l'ultimo ma lui fa passare no l'avevo detto l'ultimo lui fa passare tre secondi tre secondi poi spara ogni volta ma allora se ho provato a farci caso poi mi sono distratto se sparava sempre nella stessa direzione se spara sempre nella stessa direzione allora va bene uno lo sa non ci va però mi sembra che cambiasse tutte le volte beh adesso che lo sappiamo possiamo tornare al centesimo con l'invincibilità esatto chiaro il teleport e niente ora che sono lì che cosa è Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!